Sto parlando il grande intenditore di musica! Ehi, che vorresti dire? E' ciù! A causa della nebbia non si vede nulla. Devo cercare di capire quanto è profondo. Uno, due, tre... Strano. Dal suono sembra che il pavimento sia fatto di un materiale soffice. Mmm... Dio deve averci messo un castello gonfiabile! Oh, ciao Aciu! A lei come raggiungiamo l'altra sponda? Creeremo un ponte! Come? Semplice arrimo, basta versare una bottiglietta d'acqua nell'alto! In quel gioco le cose andavano diversamente. Va bene, ho un piano B. Questo piano B prevede in qualche modo la mia agonia come di consueto? Ehm... Perché mi guardi in quel modo? Adry! Alzati! Ehi, alzati! Alzati per l'amor del cielo! No! Ah! 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 vedi questi fiori e questi cristalli in questo momento vedo solo la tua faccia davanti a me mi è venuta un'idea che ci farà diventare ricchi